un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con piana stampa da rassegna stampa di inquieto notizie oggi giovedì 16 maggio cominciamo sfogliando le pagine di calabriora che titola si è arreso il boss dei pesce latitanti da tre anni dopo l'arresto della moglie era isolato si consegna il mamma santissima di rosarno in alto gioca tavolo il processo uccisero fabrizio pioli abbastonate e poi dietro fuoco al cadavere all'interno pioli è stato massacrato e poi bruciato iniziato il dibattimento l'elettrauto fu colpito con due oggetti contundenti ieri la testimonianza del capitano si consegna il boss di rosarno dopo tre lunghi anni di latitanza giuseppe pesce si è arreso aveva preso le redini del clan dopo gli arresti dell'antimafia è stato condannato a 13 anni di carcere un fiore per mio fratello così giuseppe è diventato il capo della cosca il riferimento è al bigliettino è stato intercettato in carcere in cui il fratello proprio con la dicitura un fiore per mio fratello indicava giuseppe come nuovo reggente ora l'unico a restare libero è marcello pesce due armi hanno colpito fabrizio omicidio pioli iniziato il dibattimento davanti alla corte d'assise di palmi fabrizio pioli è stato colpito sette volte con due diversi mezzi contundenti i suoi carnefici hanno tentato di incendiare il corpo in tribunale il capitano dei carabinieri bamboracchi ha ricostruito le indagini che hanno portato all'accusa per napoli la moglie il figlio e il nipote la perizia medico legale smentirebbe la tesi sostenuta da napoli secondo il quale avrebbe agito da solo nell'uccidere pioli la perizia ha permesso l'identificazione definitiva del cadavere palmi lo presti lo sfogo di surace problema sottovalutato palmi il consigliere sollecita gli uffici sui lavori al campo restiamo nella stessa città centri storici finanziati soddisfatto il centrodestra nella foto giuseppe saletta e giovanni arruzzolo servizi contesi pdl contro tripodi sindaco prevenuto polistena dopo i pronunciamenti a favore della cooperativa i servizi restano bloccati il pdl sul caso la forza della vita dice non capiamo l'accanimento rezziconi tiziana bencivenni nuovo segretario è ancora a polistena longo a che serve inaugurare il consigliere attacca scopelliti mentre non c'è posto per partorire in attesa dell'inaugurazione di ostetricia le perpe le per le puerpe le scusate restano posti terremoti in maggioranza in tre lasciano madafferi san ferdinando durissimo stilo dice giunta chiusa al dialogo domani in consiglio le surroghe dei tre consiglieri uscenti torinovra andagismo il comune lancia adotta un cane e a melicucco centrale biomasse il comune ricorre al consiglio di stato il tar ha dato ragione all'impresa sul rinnovo della concessione seminara giovane italia sta con bonico sapere i saperi progetto d'eccellenza al liceo pizzi proseguono a palmi gli incontri coi autori della città presentato il libro di alfonso zampogno una raccolta di poesia apprezzata dagli studenti ancora palmi un pomeriggio da favola per gli studenti più piccoli e a oppido ma mertina al comprensivo nasce ricerca alternativa passiamo alle pagine di gazzetta del sud titolo principale giuseppe pesce si arrende l'agitante dal 2010 considerato il reggente della cosca si è presentato alla caserma dei carabinieri basta sono stanco di scappare è già stato condannato a 16 anni in alto gioia tavolo pioli la perizia e il processo sinopoli bomba esplode nella notte danni e panico tra i cittadini andiamo all'interno ad approfondire tutte queste notizie che riguardano il nostro territorio principalmente quella di pesce la notizia principale di tutti i tre quotidiani locali partiamo da una notizia di cronaca gioia tavolo clan molè arrestato francesco cosoleto l'uomo era già in carcere per deja vu quindi nuova notifica per francesco cosoleto in carcere caso pioli si tentò di bruciare il corpo dall'esame otoptico emerge il particolare raccapricciante sulla morte di fabbrizio pioli inferti in testa nove colpi con due oggetti contundenti ieri l'udienza del processo ancora pagine di gazzetta rosarno si costituisce giuseppe pesce il giovane trentenne è considerato dagli investigatori il reggente della potente cosca è stato condannato a 16 anni basta sono stanco di scappare l'attitanza dal 2010 era braccato dai carabinieri pagina 32 di gazzetta ancora un approfondimento sul caso pioli diritto pioli le accuse di simona la testimonianza del capitano boracchia al processo che vede imputati familiari della giovane donna l'ufficiale dei carabinieri dichiara disse di aver visto il padre impugnare una pistola san ferdinando tirò il bersaglio sul negozio di mobili dell'assessore rizzo 15 pistolettate a gioia tauro rapini in un supermercato il colpo al market cry di via giovanni ventitresimo ancora gioia tauro toponomastica nomi grotteschi e sfizi personali dal 1998 non è operativa la commissione che dovrebbe mettere ordine in questo caos serrata feroletto la corte dei conti condanna il sindaco e un ex primo cittadino queste le sentenze a fondo pagina l'artista di ziconese giuseppe ungheri si è spento a roma scultore e pittore di fama internazionale una lunga carriera costellata da riconoscimenti importanti aveva 87 anni sinopoli bomba sventra auto e garage danneggiate alcune abitazioni martedì notte lo scoppio di nordigno ad alto potenziale ha scatenato il panico nel merino un ex dipendente del comune deflagrazione avvertita fino a santo eofemia per la nuova viabilità cittadina la giunta investe 300 mila euro per le circonvallazioni e a polistena servizi sociali e sanitari il pdl accusa tripodi ancora polistena partorite nelle cliniche private il reparto all'ospedale è al completo il consigliere provinciale Longo dichiara capita anche questo laureana giovani chitarristi raccolgono consensi e numerosi premi i talenti dell'accademia e infine a fondo pagina stazione di rosarno inadeguata raggiungere i binari è una impresa il professor spataro torna alla carica soprattutto per disabili e anziani e passiamo alle pagine del quotidiano della calabria ultimo giornale della nostra rassegna di oggi titolo principale dedicato anche in questo caso a l'arresto di pesce si è arreso il reggente del clan rosarno in manette erano finiti nelle scorse settimane la moglie e il suo uomo di fiducia giuseppe pesce si è consegnato ai carabinieri di recente la condanna a 16 anni all'interno del quotidiano della calabria per approfondire la notizia dell'arresto di pesce peppe pesce si arrende all'arma il reggente del clan di rosarno getta la spugna si presenta ai carabinieri e si lascia arrestare nei mesi scorsi il celchio si era stretto fino all'arresto della moglie Ilenia a centropagina ricostruita la scomparsa di Pioli il capitano Boracchia testimoni in aula palmi nel processo per la morte del giovane la difesa chiede l'acquisizione del pc del giovane e della Napoli la corte però rigetta questa richiesta melicucco contro la centrale dopo la sentenza del tar il comune della piana ha deciso di ricorrere al consiglio di stato il no alla proroga per la costruzione dell'impianta biomasse era stato bocciato colpi di pistola contro il negozio di mobili è a gioia una rapina diritto di replica a Biagio Guerrisi è un libero cittadino a scriverlo è appunto il suo avvocato Girolamo Larosa l'intervista sono isolato, diffamato e a rischio l'articolo è di Antonio Raso il protagonista dell'intervista è Ettore Rositani responsabile del settore urbanistica dell'ufficio tecnico di Cittanova Polistena non basta tagliare i nastri il consigliere provinciale Giuseppe Longo polemico con Scopelliti l'esponente dell'opposizione dice i cittadini pagano i ritardi della politica ancora Polistena il Santa Maria degli Ungheresi è promosso dalla Agenas nonostante tutti i dati del nostro comio scusate nonostante tutto i dati del nostro comio sono confortanti l'articolo è firmato da Alessandro Tripodi ancora Polistena, PDL e Forze della Vita chiedono al Comune di riavviare il servizio dopo la sentenza su Polistena schierati con buon amico la decisione di Giovani Italia per il Comune di Seminara e a Rosarno Rosarno chiede il controllo del PSA la batteriosi che minaccia la coltivazione dei kiwi varia la squadra è completa nominate a Palmi i coordinatori esecutivi del direttivo comitato pronto a dare il via all'organizzazione e da quest'anno sono presenti anche i componenti del gruppo tecnico città nuova il sindaco Cannatà solidale con l'imprenditore Raso e a Palmi quando i bambini parlano muovendosi negli spazi alla Casa della Cultura il convegno di psicomotricità Cinque Frondi ecco il maggio musicale per i tanti giovani talenti l'iniziativa sarà ospitata dalla città di Cinque Frondi era questa l'ultima notizia di oggi Piena Stampa torna domattina alle 8.30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti da Lucero di No l'augurio di una buona giornata a a a a